ciao ragazze allora questo è un altro video che sarà di risposta un altro video di lolla quello sui must per quanto riguarda l'abbigliamento da avere nel proprio armadio per questo inverno gelido allora io comincio da una cosa che per me è davvero molto importante perché sono molto molto freddolosa molto inizio da un pigiama secondo me è un must da avere c'è un bel pigiama in pile caldo se io non riesco a dormire ad esempio con i pigiami di cotone anche in in inverno ma devo avere per forse il pigiama in pile sarà che comunque è in camera mia cioè io dormo insieme ai pinguini quindi c'è d'obbligo avere un pigiama di pile altrimenti davvero muoio ma muoio davvero dal freddo sempre di stare allo solpolo nord in alaska quindi per me un pigiama in pile è sicuramente un must da avere ho diviso in zona giorno e zona notte ho diviso quello che vi farò vedere quindi pigiama zona notte quindi ok poi cosa più queste qua queste sono delle calze io faccio vedere c'è questi qui cioè fantastici quelli con babbo natale e sono questi qui di un tessuto che non ciniglia non so comunque sono caldissimi e io uso questo uso questi qui metto il pigiama e le pantaloni nella nei calzini e sto caldissima quindi questi qua ci sono per me sono un must poi un'altra ma se questa qui già la conoscete perché l'avete vista in qualche mio video lei questa qui è la mia vestaglia allora io ne ho un'altra rosa però questa qui ora la sto usando di più perché è più lunga vedete l'altra io ce l'ho tipo giacchetta questa qui invece è lunga c'è la cinta e me l'hanno regalata due mie le mie migliori amiche a natale insieme a queste diello kitty che sono caldissime e la potete trovare da hm le tabattine non lo so però questa qui da hm e ora l'ho trovata anche in sconto a 15 euro è caldissima davvero io lo uso molto anche quando magari sono vestita magari studio metto questa qui sopra e mi mantiene davvero molto molto caldo quindi questa è la zona notte poi ora andiamo a zona giorno quando riguarda la zona giorno allora i must da avere per me queste qua queste sono delle vere e proprie calze queste qui sono delle delle calze 100 denari queste sono di colore marrone io le avevo prese da golden point non ricordo quanto le avevo pagate però queste qui ovviamente le metto quando magari devo mettere magari un vestitino sono coprenti sono calde sono buone quindi secondo me un must davvero sono le calze così pesanti cioè io direi davvero dai 60 in su per l'inverno queste qui sono cioè davvero secondo me un must da avere poi anche qui mi associo a lolla per me un must da avere inverno estate autunno primavera stagioni che non esistono una comunissima camicia bianca allora a me piace magari comprare sì la camicia bianca rimanere sul tradizionale infatti ne una con taglio molto molto tradizionale a volte però ovviamente mi piace avere non essere troppo formale donna in carriera ma ovviamente e questa qui è molto carina l'ho presa in un negozietto a questo scollo vedete qui c'è anzi spessate qui c'è un altro bottoncino vedete a queste rifiniturine davvero c'è molto carina io giù metto una fascia perché altrimenti la trovo troppo troppo scollata questa qui è a body vedete ed è un must anche questo da avere sotto maglioncino sotto qualsiasi cosa è davvero un must questa qui un coprispalla in l'anettina questo qui l'ho preso da H&M l'ho preso ieri l'ho trovata a 5 euro ed è in l'anettina è verde petrolio io ho queste maniche così secondo me è un qualcosa davvero da avere perché quando magari si vuole mettere la camicia non si vuole per forza mettere un maglioncino perché magari come ad esempio nel caso di questa ho una camicia che ha magari voglio far vedere le applicazioni che ci stanno mettere un maglioncino di sopra vorrebbe dire comunque non farle più vedere quindi secondo me questa è davvero una buona soluzione perché comunque si lascia la vetta aperta questo non ha bottoncino non ha niente però allo stesso tempo le spalle sono comunque al caldo quindi un coprispalla in l'anettina secondo me è un altro must poi qualcosa così questa qui vedete ha questo scollo in questo modo vedete un vestitino questo l'ho preso l'anno scorso da Tallywail Tallywail l'avevo pagato poco tipo 8 euro mi sembra l'avevo pagato ed è molto caldo io lo metto con una dolce vita visto che è a mezza manica un paio di calze pesanti e sono davvero a posto quindi secondo me è un vestitino del genere fa davvero la vostra figura anche per uscire comunque di sera è davvero una buona alternativa poi queste qui queste qui sono tipo leggings però sono in lana cioè sono proprio in lana e neonti di altri colori e questi qui di solito io li uso quando magari metto una maglietta un po' più corta cioè che non è un vestitino vero e proprio ma magari è un po' più corto quindi magari metto questo qui perché comunque fugge davvero come un pantalone e quindi vedete è molto stretto questa sorta di polsini questo qui l'ho preso da Zwicky e con lo sconto l'ho pagato 10 euro quindi un buon affare poi anche qui invece se non si vuole un vestito magari in quel modo con delle calze come quello che ho fatto vedere o comunque qualsiasi tipo di calza questa è zona sera magari per un incontro un po' carino un vestitino così vedete non è molto molto cioè a me arriva comunque al al ginocchio io sono bassissima sono a me 3,61 quindi cioè vedete è molto carina poi a questo qui che è davvero carino anche questo qui l'ho preso da Zwicky e l'ho pagato 15 euro poi due must cappello rigorosamente colpo un po' in questo modo perché c'è davvero anzi quasi quasi me lo tengo cioè ci vuole sembra una cretina ci vuole perché fa freddo fa la leve va bene e poi una sciarpona immensa larga così che cioè voglio dire vedete una sciarpona ci vuole è un altro must da avere non metto i guanti perché io non so portare i guanti però comunque va bene anche poi passo alle scarpe che per me è un must d'inverno sono gli stivali io qui gli stivali in questo modo questi le ho pagati un po' mi erano stati legati da mio papà l'anno scorso a Natale le ho pagati in uno dozzo da me le ho pagati 130 euro sono comodissimi hanno tutti questi lacci e per me sono buoni io odio gli stivali da pioggia quindi questi qua per me sono una buona alternativa e poi un piumino un piumino in piuma d'oca secondo me è un altro must vedete in piuma d'oca questo qui è di coca e l'avevo pagato l'anno scorso con gli sconti 60 euro quindi più che accettabile quindi questi sono per me i miei must volevo farvi vedere l'ultimo acquisto che ho fatto acquisto questo regalato dalla mia dolce metà ed è da il libro di Clio finalmente il mio e quindi niente lo leggerò prenderò spunto e vi farò sapere quindi anche qui è stato fatto un altro video saluto nuovamente Lolla vi mando un bacio saluto e ringrazio tutti i nuovi iscritti le persone che mi lasciano i commenti e vi mando un grosso bacio al prossimo video ciao